E' tutto pronto per la quinta edizione della tombolata vivente organizzata dall'associazione Vivi San Marco con il patrocino del comune di Castellabate. Numerose novità in questa edizione a partire dalla degustazione di prodotti tipici cilentani e dei ricchi premi che anche quest'anno conquisteranno coloro che parteciperanno. Oltre ai classici premi per la tombolata ci saranno anche quelli per lo sfigato, il fortunato e quest'anno anche per il super fortunato che vincerà un super premio, uno per ogni giro di tombolata, che verrà svelato nel corso della serata. Vista la grande richiesta di partecipazione e il divertimento assicurato delle passate edizioni, anche i paesi a noi vicini ci hanno proposto di organizzare la manifestazione e le loro piazze, cosa che ci è molto lusingato ma per motivi organizzativi purtroppo non abbiamo avuto modo di approfondire, cosa che faremo molto probabilmente il prossimo anno, dichiara il presidente dell'associazione Caterina Acquaviva. Durante la serata inoltre ci sarà la possibilità di acquistare il calendario 2019 di Vivi San Marco che insieme a parte del ricavato di tutta la serata sarà devoluto per la ristrutturazione del campanile della chiesa di San Marco. La quinta edizione della tombolata vivente vi aspetta quindi il 30 dicembre con i due turni delle 18.30 e delle 20.30. Aggiornamenti sulla pagina facebook dell'associazione Vivi San Marco.